C'è chi lo chiama Blitz d'agosto e chi è già pronto a fare le barricate, chi come il pentastellato barese Sabino Mangano prepara un banchetto da montare all'esterno di Via Gentile e chi la spiega come una semplice armonizzazione del sistema. Fatto sta che in Regione torna l'assegno di fine mandato per i consiglieri, il chiavistello e un ammendamento al disegno di legge sui debiti fuori bilancio, rigorosamente bipartisan. Era stato abolito nel 2012 ma torna con la benedizione dei capigruppo e il voto unanime dell'Assemblea, nessun regalone d'estate, tuonano. Nello specifico il dispositivo prevede che a partire da gennaio 2013 chi ha occupato lo scranno in consiglio e in giunta ha diritto all'assegno di fine mandato, anche in caso di carica cessata in itinere. La montare, cito il documento, è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità di carica lorda percepita, moltiplicato per ogni anno di effettivo esercizio e contrattenuto dell'1% per la corresponsione dell'assegno. Tutto risolto, tutt'altro e così a gridare allo scandale Antonella Laricchia, assente durante la seduta in questione, rimasta nel gruppo del Movimento e costretta, dal suo di punto di vista, a incassare pure la firma della sua capogruppo in calce, la quale a sua volta fa sapere che per il Movimento l'accantonamento sarà ridotto. Normalmente sono i lavoratori ad accantonare la quota mensile per il TFR, altro che normalità, contesta l'ex candidata presidente. Sul fronte trasparenza intanto, la giunta ha stabilito che i dati rettituali e patrimoniali di tutti i dirigenti apicali siano resi noti attraverso pubblicazioni online.